I cavalli sono in partenza. Partiti. Super Ghiro viene cavalcato all'esterno da Baby Boss che figura in leggero vantaggio. All'esterno è Green Hill Sweetie lungo lo steccato Go Touch Time. Go Touch Time passa in vantaggio allo steccato in seguito da Baby Boss. Quindi Super Ghiro con all'esterno Green Hill Sweetie. Siamo a 350 dal palo con Baby Boss che si propone all'attacco deciso di Go Touch Time. I due sono in vantaggio inseguiti da Super Ghiro. A 200 dal palo Baby Boss ha allungato nei confronti di Super Ghiro che ci prova all'esterno. Ma nel finale Baby Boss si impone chiaramente su Super Ghiro, Go Touch Time e Green Hill Sweetie. Andiamo a rivedere le immagini con la bella affermazione di Dario Vargio in sella al favorito Baby Boss numero uno dello schieramento che nel finale ha preso chiaramente il sopravvento nei confronti del compagno di scuderia Super Ghiro numero quattro. Al terzo posto chiude il due di Go Touch Time. Uno, quattro, due. Il probabile ufficioso arrivo della seconda di Napoli.